Siamo qui con l'MVP della partita Dario Venitucci, allora 4 a 1 Clivense, oggi una vittoria che cercavate da parecchio tempo e fa bene arrivare finalmente a tre punti. Sì una vittoria importantissima visto il momento delicato che stiamo passando, credo che ce la meritavamo perché stiamo soffrendo tanto e giocare quando sei in queste condizioni di classifica non è facile, però oggi abbiamo risposto bene, adesso spero che ci possa dare fiducia e pensare a preparare meglio anche le altre partite con più serenità. Tu fai solo gol brutti perché oggi più il primo però ha questa doppietta importantissima che fa bene alla squadra, fa bene anche a te, ti dà fiducia? No no sono contento dai sì, prima è stato un bel gol, secondo ho tirato piano però è andata bene, l'importante è che abbia portato tre punti importanti alla squadra. Mister contento, ho visto che in tutti i gol siete corsi ad abbracciare, sentivate che anche per lui è importante venire da questo momento un po' così, gli dà fiducia a tutta la squadra, le parole del Presidente e del Vicepresidente unita per uscirne insieme, quindi anche questo abbraccio voleva sottolineare che siete tutti insieme focalizzati su questo obiettivo. Sì sì, noi ovviamente stiamo soffrendo tutti quanti, anche il mister che ci tiene tanto, una bravissima persona, un bravo allenatore e giustamente noi siamo tutti con lui. Perfetto, allora adesso testa alla prossima. Testa alla prossima, ci riposiamo domani e poi bisogna pensare già a giovedì, cercheremo di prepararla come sempre nei dettagli, cercare di trovare continuità per uscire fuori da questa situazione di classifica. Perfetto, grazie.